segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma parto da questa seconda seconda parte della domanda il valore nazionale c'è e non c'è sempre nelle amministrative importanti in un certo senso peraltro questo non era un turno con grandi città paragonabili a quelle dell'anno scorso questo dobbiamo dirlo però insomma votavano al primo turno quasi 10 milioni di italiani quindi un suo peso ce l'ha e poi traslarlo sul piano politico nazionale è complicato per due motivi primo c'è un sistema elettorale diverso secondo c'è un'affluenza molto diversa cioè ieri ricordiamo ai ballottaggi ha votato il 42 per cento degli aventi diritto alle politiche probabilmente voterà il 70 il 72 per cento c'è un enorme divario di partecipazione al voto e questo è un elemento da considerare dopodiché su chi ha vinto sicuramente il centrosinistra ha vinto i ballottaggi nei capoluoghi e soprattutto ha vinto le partite più importanti il risultato storico al suo modo di verona è molto importante ma possiamo dire lo stesso di parma dove c'era già un vantaggio importante al primo turno Catanzaro sorprendente nell'aver ribaltato uno svantaggio quindi è vero il centrosinistra vince soprattutto i ballottaggi delle grandi città dei capoluoghi però se allarghiamo lo sguardo ai comuni che votavano nel complesso la situazione è più sfumata e noi abbiamo calcolato che nel totale sui 142 comuni superiori il centrodestra ne abbia vinti 58 che sono quattro in più rispetto a quelli che amministrava il centrosinistra che ha inglobato ricordiamo il 5 stelle in gran parte dei casi ne ha guadagnati invece cinque rispetto al 2017 allora peraltro caro pregliasco noi dovremmo avere questo cartello per cui chiedo alla regia di recuperare l'elaborazione numerica che Utrend ha pubblicato sui propri profili social dovrebbe essere nel portafoglio di grafiche chiedo scusa no i dati della siccità credo che siano gli unici dati non utili in questo momento pregliasco no infatti però come dire il riferimento è proprio al calcolo al tabellone che abbiamo composto eccolo qua eccolo qua lo stiamo vedendo centrodestra che passa da 54 a 58 centrosinistra sommando anche i diciamo i candidati giallorossi centrosinistra 5 stelle che passa da 48 a 53 quindi è sostanzialmente un pareggio se guardiamo a tutti i comuni superiori e quindi quelli con più di 15 mila abitanti poi è chiaro che il segno politico c'è lo da più verona che non un piccolo comune però attenzione perché alle politiche un voto a Roma pesa come un voto a Canicattì e la gran parte della popolazione italiana non vive nelle grandi città questo dobbiamo sempre ricordarcelo siamo un paese di piccoli paesi e questo poi alle politiche si sente certo quindi è giusto questo richiamo i voti si contano però poi i risultati vanno anche pesati ed è evidente che quanto avvenuto a Verona sia un risultato clamoroso anche perché nell'immaginario collettivo degli italiani Verona resta una roccaforte del centrodestra che dolari?